Amici ben trovati sul canale, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, attivate anche la campanella delle notifiche. Giornata molto intensa, particolare all'interno della Juventus, perché è arrivata una separazione da Joe Montemurro, ovvero l'allenatore dell'area women. Contestualmente è arrivato anche il rinnovo del contratto del direttore Stefano Berguin, l'anima portante dell'area femminile della Juventus, sin da quando è nata nel 2017, cominciò sotto la gestione di diritta Guarino, poi arrivò Montemurro, al quale si deve la crescita del progetto Juventus a livello europeo. La Guerino aveva fatto un lavoro straordinario nei primi anni a Binovo, facendo diventare la Juventus sin da subito vincente a livello nazionale. Montemurro ha avuto il merito invece di far diventare il progetto valido, fino a portare la Juventus tra le squadre più importanti a livello europeo. Chiaro, c'è sempre ancora uno step ulteriore eventualmente da fare nel futuro prossimo per arrivare davvero al livello delle squadre più attrezzate dell'Europa, però obiettivamente la Juventus con Montemurro quel salto di qualità a livello europeo lo ha fatto. Forse questo è quello che è pesato di più nelle valutazioni di questa fase storica, perché l'estate scorsa, quando la Juventus Women è uscita prima dei raggruppamenti dalla Champions League, obiettivamente si è ritrovata poi a dover affrontare una stagione col solo campionato, con una rosa molto più ampia e molto più attrezzata, proprio perché si riteneva si potesse affrontare nel corso della stagione un calendario molto più impegnativo, reso impegnativo appunto dalle partite di Women Champions League. Ciò non è avvenuto, così come nel corso della stagione ci sono stati tantissimi alti e bassi, così come nel corso della stagione ci sono stati tanti momenti in cui si è palesata un po' questa difficoltà della Juventus, forse addirittura a diventare squadra o comunque a far prevalere i propri valori di fronte ad una Roma che non matematicamente ma virtualmente ha già chiuso il campionato a proprio favore e credo queste valutazioni abbiano portato la Juventus, la società, a fare delle riflessioni profonde sin da subito. La ciliegina che un po' ha fatto saltare il banco, credo sia stata la sconfitta a Firenze, nell'ultima gara contro la Fiorentina, semifinale di Coppa Italia, è andata, quindi nella gara di ritorno si potrà sicuramente ribaltare la situazione, ma ancora di più è venuta fuori una squadra che ha faticato nell'ultimo periodo a tenere la barra dritta e forse questo è stato l'aspetto più preoccupante nel corso di questa stagione. Gio Montemurro l'estate scorsa aveva rinnovato fino al 2026, poco prima del primo raggruppamento per accedere ai gironi di Champions League. Forse già la gestione di quel momento aveva scatenato qualche critica all'interno dell'ambiente, il rinnovo del contratto dell'allenatore l'estate scorsa si era quasi reso necessario perché sulle tracce del tecnico italo-australiano c'era anche la nazionale americana, insomma è stata sicuramente un'azione per blindare la guida tecnica della squadra. In questo momento si arriva alla separazione, credo anche per dare una maggiore consistenza al potere decisionale del direttore Stefano Braghin che in questi mesi ha pure faticato a fare determinate cose perché era in scadenza di contratto così come tutta l'area tecnica della Juventus al prossimo 30 di giugno. Il rinnovo di Stefano Braghin oltre a palesare la grande fiducia che il club ha nei suoi confronti, tra l'altro su Braghin si erano mossi anche dei club inglesi nelle ultime settimane proprio per capire e sondare la sua eventuale disponibilità ad un trasferimento futuro ad ogni modo, oltre alla fiducia che viene fuori da parte della Juventus nei confronti del direttore dell'area women, credo questo aspetto lo metta ulteriormente al centro del futuro della Juventus azienda. E qui voglio arrivare al nocciolo del discorso perché oltre a Braghin credo il prossimo a rinnovare con la Juventus sarà Massimiliano Scaglia ovvero il responsabile del settore giovanile della Juventus, anche lui in scadenza ma anche lui meritevole di estrema fiducia anche per i risultati palesi oggettivi che stanno venendo fuori dall'attività giovanile della Juventus da un po' di anni a questa parte con Giuntoli che ha un contratto lungo, adesso Stefano Braghin che rinnova fino al 2027 il prossimo passo che dovrebbe essere quello di Massimiliano Scaglia per consolidare la sua posizione a capo del settore giovanile della Juventus mi pare a livello aziendale il club Juventus stia dando un segnale chiaro ovvero i cicli nascono dai direttori che vengono consolidati al centro del proprio progetto affinché possano poi svilupparlo secondo le linee aziendali e le linee aziendali anche sull'area femminile sono ben chiare ovvero la valorizzazione dei giovani, dei talenti che la Juventus sta facendo crescere nel settore giovanile di Vinovo ed è sicuramente un settore giovanile importante così come poi c'è quel passaggio di molte giocatrici che vengono concesse in prestito tra Serie A e Serie B per fare esperienza lontano da Torino ma mettendosi poi nelle condizioni di trovare considerazione per un eventuale rientro o futuro è successo già a diverse calcetrici e verosimilmente potrà succedere anche all'interno delle prossime sessioni di mercato tutto questo perché a mio avviso quello che in questo momento credo sia importante sottolineare è questa fase di trasformazione che c'è alla Juventus questa metamorfosi che c'è all'interno dell'azienda Juventus e ripeto la posizione, il consolidamento delle posizioni dei direttori credo sia il primo aspetto che strategicamente ci spiega in che direzione si sta andando e quindi insomma credo ciò che è avvenuto nelle ultime ore sull'area femminile credo sia un segnale forte come sapete io questo canale lo sfrutto davvero per approfondire nel mio tempo libero alcuni aspetti che riguardano la Juventus e con l'ambizione di farlo dal punto di vista aziendale la cronaca, le notizie le lascio alle testate giornalistiche per cui lavoro proprio per evitare ogni tipo di contrasto tra quello che faccio per lavoro è quello che invece faccio nel tempo libero nelle prossime ore avrò anche la possibilità di chiarire altri aspetti della mia attività lo farò grazie a Luca Toselli che mi ha invitato a fare un confronto con Fabio Villani di Live Bianconera avrò anche il piacere e l'opportunità di dire e di far comprendere bene quali sono gli aspetti che devo riportare per notizia e quali invece sono poi le opinioni personali che credo all'interno di questo canale trovino il maggior spazio possibile proprio perché insomma ho il piacere di condividere il mio tempo libero secondo alcune argomentazioni che mi piace sottoporvi e condividere con voi anche per sapere, conoscere la vostra opinione io credo sia un momento storico importante per la Juventus credo si stia sempre più prendendo il centro della scena ciò che la Juventus azienda ha pensato per il futuro prossimo probabilmente alcune cose le avevamo già capite già l'anno scorso comunque negli ultimi mesi tutti aspetti però che richiedono tempo un tempo di maturazione che inevitabile dovrà trascorrere credo ecco all'interno della Juventus in questo momento qua se prendiamo spunto da ciò che è avvenuto sull'area femminile beh io credo sia stato davvero importante far comprendere come la Juventus abbia protetto fino a che ha potuto il lavoro di Gio Montemurro che obiettivamente ha deluso, ha deluso abbastanza già all'inizio di questa stagione senza la qualificazione ai gironi di Champions League poi se vogliamo con diverse altre gestioni partite che si sarebbero dovute interpretare in maniera diversa soprattutto gli scontri diretti con la Roma obiettivamente uno in particolare ha palesato la grande differenza tra i due progetti ma al netto del valore delle due rose io credo quello che è venuto fuori e che è venuto a mancare è lo sviluppo della Rosa della Juventus rispetto alle aspettative che c'erano credo insomma a questo abbia portato poi la direzione sportiva a fare delle valutazioni forti e a decidere addirittura di separarsi da Gio Montemurro a stagione in corso un qualcosa che non era mai avvenuto sul settore femminile ricorderete Rita Guarino si arrivò alla separazione con la Juventus ma solo al termine della sua stagione qui invece c'è ancora da terminare il campionato insomma c'è chiaramente da terminare anche il percorso in Coppa Italia sperando che insomma possa giungere al termine nel miglior modo possibile insomma è un qualcosa che obiettivamente non è così consueto alla Juventus ma evidentemente tutti, tutte le componenti dell'azienda hanno ritenuto che questa potesse essere la cosa più giusta da fare proprio per dare uno slancio diverso all'ultima parte di questa stagione e pianificare meglio il futuro prossimo si fa il nome della Bacher, allenatrice dell'Ajax in scadenza, un profilo internazionale, un profilo importante che lavora molto bene con le giovani capiremo se ci sarà seguito rispetto a questa indiscrezione giornalistica che ha sicuramente delle fondamenta ma ripeto, quello che è avvenuto in queste ultime ore alla Juventus nell'area femminile ci fa comprendere cosa a livello aziendale fa davvero la differenza in casa Juventus e cosa potrà fare la differenza nella pianificazione del futuro prossimo ditemi cosa ne pensate se volete anche allargando un po' il discorso in altre vicende che sicuramente in questo momento meritano un'attenzione da parte di tutti iscrivetevi al canale come sempre vi ricordo anche di attivare la campanella delle notifiche grazie a tutti